Amici di Twitch, buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo live talk ragazzi, so che vi mancava, questo è il vostro appuntamento preferito, questa settimana ne avremo ben tre, anche se stasera si inizia veramente col botto perché abbiamo un ospite strepitosa che ringraziamo fin da subito di essere qui con noi che è Barbara Castracane, grazie mille Barbara per il tempo che ci dedicherai. Grazie a voi di avermi invitata. È veramente un piacere, allora fatemi vedere chi c'è, chi c'è questa sera, chi c'è, chi c'è. Allora salutiamo i mod che fanno sempre un ottimo lavoro a controllare questa bellissima chat che ci sia un'atmosfera carina, cordiale e pronti a bannare quando c'è bisogno, quindi bravi mod, saluto Jackie e fanpage, un saluto anche ai nostri VIP, i VIPs che hanno il saluto personalizzato inizio live, quindi Lost Boy Under The Hood, macroidrovolante, vedo connesso Mika il 94, il nostro PDK, grandissimo, ovviamente un saluto anche a tutti gli altri. Ricordiamo al volo ragazzuoli comandi chat che so cose dovreste sapere a memoria per non ritornarci poi dopo. Allora inizio io con... Adesso dato che mi hai detto cominci a tu, cominci tu. Spanchi, punto esclamativo Telegram, cosa fa? Punto esclamativo Telegram vi riporta al nostro canale Telegram di cui Jackie è padrona assoluta e vi fa vedere in anteprima delle cose, ci sono qualche piccolissimo spoiler ed è assolutamente gratuito entrarci, quindi punto esclamativo Telegram venite tutti. Molto male Spanchi, molto male, anche perché non hai detto cosa facciamo noi lì, cioè nel senso noi c'è Jackie che è la nostra admin che prepara, prepara le persone alle nostre live, ai nostri ospiti con momenti clip, momenti meme. È vero, è vero. Oggi per Barbara abbiamo messo una bellissima clip tratta da X-Men Conflitto Finale dove c'è un bellissimo discorso tra Hugh Jackman e Jean Grey. Quindi... Ma tu hai? Sì, 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 molto molto carino e molto apprezzato. Eh, infatti va bene. No, no, c'è un discorso però molto sexy. Comunque due non mi hanno mai convinto insieme. Molto sexy e aggressivo allo stesso tempo, devo dire, però molto molto bello. Poi, poi, punto esclamativo sub, i vantaggi per gli abbonati. Quindi abbiamo... Perché dovreste abbonarvi e supportarvi il canale? È gratis perché Amazon Prime costa due caffè, 3,99 euro per chi non ce l'ha. I vantaggi sono potete guardarvi le live senza pubblicità, ve la perdete questa sera, potete recuperarla, avete tempo 60 giorni, in esclusiva. Avrete le emoticon personalizzate del canale, insomma, tante belle cose in più. Con le nostre facce. Con le nostre facce. E in più potrete entrare nel gruppo Telegram, che a differenza del canale dove c'è Jackie che posta, nel gruppo ci siamo noi che parliamo con voi. Ci siamo noi e anche dei nostri vecchi ospiti che hanno chiesto di far parte del canale. Quindi Massimo Trigiani, Carlo Cosolo, Lorenzo Crisci e molti altri. Non dire altro, non dire altro. Quindi, ragazzi, che aspettate? Lorna... No, questa la dico io perché è troppo facile per te. Punto esclamativo ospite, rimanda i social della nostra ospite, quindi in questo caso Instagram, di Barbara. Andatela a seguire tutti perché è fantastica. Noi lo facciamo, anche voi seguitela, ma non stalkeratela, come sempre. In queste raccomandazioni. Lorna, punto esclamativo quote. Che cosa fa? Oh, punto esclamativo quote. Pesca in un calderone di frasi storiche dette sul nostro canale. Quindi, diciamo, perle di saggezza, esclamazioni, frasi decontestualizzate che vi fanno pensare male delle persone e ne sceglie una a caso e ve la ripresenta. Così voi potete, insomma, non credete a nulla di quello che vedrete dietro. Ma non è vero, sono carinissime. Ad esempio, diciamo qualcuna, vedo che le state già usando, può fare una voce da cosmetico detta da Pasquale Anselmo, che gli è stata chiesta da un funzionario. Oppure abbiamo sentito cose per cui le orecchie sanguinavano, di Silvia Pepitoni. La verità del teatro può nutrire la vita, di Claudio Moneta. Insomma, sono delle frasi che hanno detto i nostri ospiti durante le nostre live che ve le pesca a casaccio, quindi degli aforismi. Queste sono quelle vere. Poi ci sono quelle false. Dette da noi, principali. Poi, punto esclamativo VIV, una bella realtà con la quale collaboriamo, la Viproduction, ci sono i loro social, già sapete tutto. Punto esclamativo Partners, i nostri fantastici social partner, che salutiamo, J Daru, roba da doppiatori, le voci del doppiaggio, ragazzi loro sono strepitose, andatevi a seguire, e puntesclamativo Merch per il merchandising. Abbiamo finito, Barbara, siamo stati veloci. Sì, scusaci. Pensa che ho capito quasi tutto quello che avete detto, quindi va bene. Fantastico. Anche perché ci hanno detto parlate arabo, non capiamo niente, invece è bello. Basta ascoltare. Esatto, esatto. Ti chiedo scusa per Spanky, perché insomma ci ha fatto una brutta figura con la sua brutta presentazione del canale Telegram. Perché che ha fatto? Sei cattivo. È così. Ve lo dicono in tanti. Guardi come se ne accorgono tutti subito. Immediatamente. Stai notando. Ve lo dicono in tanti. Poi oggi sono anche in minoranza, perché non ho i miei pupilli. No, cattivo no, severo dai, diciamo solo. No, no, ma ha ragione, ha ragione. Severo ma giusto. È un po' vabbè, comunque. Un po' vabbè, andiamo avanti. Un po' vabbè, andiamo avanti. Notate il sopracciglio. Comunque, dai, iniziamo con la nostra classica domanda, perché noi non sappiamo dove andremo a parare, ovviamente, come in tutte le nostre live, però abbiamo due costanti, che sono la domanda iniziale e quella finale. Quella iniziale te la andrò a porre. Ed è questo. Tipo Marzullo. Esatto, esatto. Molti ci hanno detto. Ci hanno detto anche questo. Ci volete psicoanalizzare, cioè prendiamo il lettino, ci sdraiamo. Invece, secondo me, è interessante vedere come ognuno di voi si vede, no? Quindi la domanda è questa. Ti chiederei chi è Barbara, non tanto dal punto di vista professionale, di cui poi avremo modo di parlarne, quanto dal punto di vista di Barbara stessa. Quindi come ti vedi tu a livelli di passioni, hobby e aspetti caratteriali? Allora, non parlerò in terza persona. Ovviamente, sì. Perché mi sembra pazza. Io penso di me, di essere intanto un adolescente un po' attempata, nel senso che il mio cuore è sempre molto da ragazzina, insomma. Non cresco, non ce la faccio. Però l'anagrafe ogni tanto mi ricorda che non ce l'ho più 16 anni e quindi... Sono solo numeri. Sono solo numeri. Ho pensato per tutta la vita di me di essere una persona aggressiva, rampante, desiderosa di fare, forse lo sono anche stata. Col tempo invece sono diventata una contemplativa, mi piace... Adesso il Covid mi ha fatto scoprire che mi piacciono le piante, i fiori, per cui ho... Oddio, ci siamo... si è bloccata la connessione? Oh no, stiamo andando tutto così bene! Ecco, ti riappiamo con noi, si è bloccata la connessione per tipo cinque secondi. Ho visto sparire improvvisamente. Ti avevamo persa per cinque secondi, però adesso è ritornato tutto. Bene, siamo rimasti alle piante. Al pollice verde, esatto. Ero ferma lì. Niente, poi mi piace cucinare... Insomma, che volete sapere? Non lo so, io so, sto anche... Continuo a fare un percorso, adesso terapeutico è dire troppo, però insomma continuo a scavare nella mia anima, che è la parte più interessante dell'esistenza, secondo me. E quindi che volete che vi risponda a cose progressive? In questo momento sono una persona... Sono un po' triste in questo momento. Questi due anni di Covid mi hanno dato una bella mazzata. Però insomma, dai. Beh, comunque è molto interessante vedere poi le passioni che ognuno ha, nel senso, ci ha detto, a parte il pollice verde, è veramente tosta, cioè io lo dico anche per esperienza personale, perché qualsiasi cosa io tocchi di piante e fiori... Non è vero, non è vero, non è vero. So cosa stai per dire. Muore. L'ho pensato... Non è vero. L'ho pensato anch'io per tutta la vita. Invece bisogna mettersi davanti, bisogna innamorarsi di una creatura, quando si gira, se la si incontra, eccetera, e dire, oddio quanto sei bella, e poi curarla con amore. E quella ti risponde. Sono esseri viventi, siamo tutti uguali, eh? Siamo tutti animati dalla stessa energia. Eh, no, a dirla così è molto bella. Perché ti muoiono le piante? Cioè dice sono talmente cattivo che anche... Ma non è vero, cioè non è colpa, è tipo, ha visto le piante quando gli veste? Servita su un piatto... Eh, grazie, grazie. Mitica. Io vi vorrei ricordare Barbara, sta qui per due ore, voi dovete sorbirvi per parecchio tempo, quindi non so quanto... No, poi... Saranno due ore de fuego. De fuego. Poi ho altre passioni, alcune che non si possono dire, ma sono una grande appassionata di pesca, io. Ah. Una grande passione per la pesca. Quindi sei anche una persona molto paziente. Sì. Mitica. No, in realtà sì, nel senso ci sono delle cose rispetto alle quali non ho pazienza. Per esempio la lentezza di pensiero è una roba che mi manda al manicomio, però sto imparando a gestirla perché non siamo tutti uguali. Ognuno ha i suoi tempi e quindi vanno rispettate un po' i tempi di tutti. Però, per esempio, la pesca è un fatto contemplativo, cioè tu sei lì in un bel posto, comunque al mare, guardi il galleggiante, è come se meditassi, no? Sì, perché la maggior parte del tempo non fai nulla, no? Nel senso guardi il coso. Esatto. Dipende da quello che pesca, eh? Perché c'è anche quella che stai sempre... Esatto, esatto. Adesso, negli ultimi anni, pescavo di più con il mulinello, per cui lanci e recuperi, poi lanci e poi recuperi, so, dipende. Però, vabbè. A proposito del lato contemplativo della pesca, quindi, invece, qual è il tuo rapporto con lo yoga, se l'hai mai fatto? Perché, insomma, anche lo yoga è molto contemplativo, no? La meditazione. Sì. Faccio alcune figure, faccio alcune figure che mi aiutano, però diciamo che non è una grande passione. sto imparando a meditare, è tutta la vita che ci provo, ogni tanto ci riesco, ogni tanto no, però lo faccio tutte le mattine e mi ci metto. Beh, io... È un quarto di costanza. Prima o poi, Giafaro. E ritornano gli sport marittimi che accomunano gli ospiti, dice Willow Badri-River. È vero? È vero, perché in chat ci fanno notare che molti dei nostri ospiti hanno una passione per gli sport marittimi, in questo caso la pesca, ma c'è anche la subacquea. L'acqua. Guarda, probabilmente perché siccome parliamo tanto, a pesca o sott'acqua, più sezzito che io è. Che fai? È un modo per riposarsi, vabbè, è vero, c'è una pensata. No, ci ho pensato io adesso mentre lo dicevi. Potrebbe essere. Potrebbe essere una verità assoluta, proprio la verità questa. La verità assoluta. Ho detto, o così hanno una convenzione con, lo so, la rima. Vedi, sì. Questa è una spiegazione molto pratica. Allora, io ho una domanda, a parte una un po' stupida, poi ve la lascio a voi perché dopo dite che mi sequestro l'ospite, quindi ho due domande. Una inerente alla passione per la cucina, perché io sono una buona forchetta, penso, insomma, ormai tutti lo sanno. Ma essere una buona forchetta vuol dire che stai cucinare o sei bravo sulla monta? No, vuol dire, essere una buona forchetta vuol dire che ti piace mangiare. Ok. E quindi, e quindi sono curiosa di sapere quali sono i tuoi piatti che tu consideri ti riescano meglio. Allora, io faccio bene tutte le minestre, perché mi piacciono, tutte le zuppe, le minestre, e faccio un brodo pazzesco, un brodo di carne pazzesco, e faccio una buona matriciana, una discreta carbonara, faccio delle buonissime quiche, e sui secondi, diciamo, sono un po' meno forte, faccio quelle cose semplici, tipo appunto il rosbif, oppure faccio il pesce al sale, ecco, quelle cose un po' più facili. No, faccio la coda buona, la coda vaccinale. La coda vaccinale. Adesso c'ho fame, mi vado a fare una carbonara appena staccata la coda. Resisti, resisti. La carbonara ci sta sempre. La carbonara. A tutte le ore. E l'altra mia domanda, invece, è inerente, diciamo, il tuo lavoro, nel senso, abbiamo, almeno, anche dai molti aspetti che abbiamo avuto, abbiamo capito che il mondo della recitazione, e nello specifico del doppiaggio, è un lavoro molto bello, ma anche molto, molto impegnativo, per il quale, poi, molti nutrono è una grande passione che coincide, poi, con l'aspetto lavorativo. E la mia domanda è questa, è se anche tu condividi questo pensiero e se il tuo lavoro coincide anche con la tua grande passione, oppure, diresti, avessi potuto scegliere qualsiasi altra cosa nella vita, magari, il mio sogno nascosto sarebbe essere astronauta, uno scultore, un musicista. guarda, per quanto riguarda la passione, assolutamente sì, condivido il pensiero, perché non potresti fare questo lavoro se non fossi animato da grande passione, perché è un lavoro veramente stressante, cioè, per carità, non è andare in miniera, non è stare nella fonderia, non è lavorare il tondino, quelli sono, quelli sono lavori diciamo, ad altissimo livello di stress. Lo stress del doppiaggio è che, è questo stare al buio tante ore, entrare e uscire dalle situazioni recitative, dalle emotività in continuazione, perché tu stai recitando la scena di uno stupro, e il tuo collega o chiunque altro subito dopo fa la battuta per sdrammatizzare, no? Tu sei ancora animato da quella, da quell'emozione e un po' ti aiuta, un po' ti spiazza, un po' ti, insomma, siamo, diciamo, un po' schizofrenici, lo siamo in modo sano, diciamo che siamo, ci appartiene una sana schizofrenia, perché altrimenti non potremmo farlo bene, a mio avviso, e poi stare in spazi, adesso non è più così, stiamo tutti da soli, però fino a prima del covid eravamo in spazi molto ristretti, in due, tre, quattro, cinque, magari persone alle quali non rivolgeresti neanche il saluto, o che non è detto che ci si debba amare per forza tutti, o che a pelle le energie collimino, possono anche collidere invece, quello è molto stressante, quella per me è una delle parti più stressanti del doppiaggio, quello è stare al buio, poi sono 42 anni, le tasche piene, puoi dire, no, non è vero, non è vero perché mi piace tantissimo, poi io sono comunque una passionale e qualunque cosa faccia la faccio con passione, se no sono fortunata da questo punto di vista, sono sempre riuscita a fare quello che volevo, quello che mi appassionava. Detto questo, non avrei fatto la doppiatrice, avrei fatto la cantante, ma non ho avuto le palle di perseguire quella strada che era più complessa e ti dirò la verità, io non me lo potevo neanche permettere all'epoca di, perché intraprendere quel percorso significava o andare a letto con qualcuno oppure aspettare il tuo tempo. il doppiaggio diciamo è molto più meritocratico o lo sai fa o lo sai fa soprattutto in quegli anni e io quando ho iniziato ho detto io questa cosa la so fare infatti dopo otto mesi facevo occhi di gatto malissimo perché era il mio primo lavoro però insomma poi vieni preso in un no comincia a lavorare la cosa va bene poi comincia a crescere fai carriere sei gratificato dal fatto che ti e quindi poi resti incastrato ci ho provato una volta mentre facevo il doppiaggio a entrare nel canto per una via traversa così per una via traversa e di quel ricordo c'ho soltanto soltanto tra virgolette soltanto la soddisfazione del maestro Piovani che sotto il palco del Sistina è venuto a battermi le mani dicendo questa ora andiamo poi non mi hanno presa però va bene non importa era il provino per i Sette Re di Roma beh è una soddisfazione che è stata una commedia musicale fatta tanti anni fa con proietti era l'87 dico una roba da presa voi non eravate neanche nati alcuni di voi beh è una soddisfazione enorme insomma meraviglioso bellissimo addirittura insomma maestro Piovani che sotto il palco ha da applaudire penso sia uno di quei momenti che ti rimane indelebili non me lo dimentico finché vivo all'epoca non era ancora premio Oscar ma era era comunque il maestro Piovani insomma era un direttore orchestra un autore insomma è stata una grande soddisfazione sono sentita molto gratificata ci credo ci credo veramente una bellissima soddisfazione però siccome non mi hanno presa poi ho detto vabbè allora forse no devo fare devo fare il doppiaggio ho continuato a fare il doppiaggio e qua sono rimasto quindi l'hai presa come un segno del destino e caputta rip guarda ci ho riprovato due o tre anni dopo ho fatto insieme a un collega uno spettacolo musicale autoprodotto scritto da noi molto divertente che si chiama Note Dolenti ed era uno spettacolo che andava in seconda serata perché so durava un'ora e diciamo dopo il primo spettacolo c'era questa questo come potrei definirlo questo recital musicale in cui cantavamo le canzoni più brutte con i testi più brutti e ridicoli dal 1900 al al 93 che è stato l'anno in cui l'abbiamo fatto e naturalmente la sera in cui abbiamo debuttato è scoppiata la guerra degli golf per cui ho detto vabbè passiamo a dormi non devo cantare l'abbiamo portato avanti abbiamo fatto un mese di repliche però non credo che sia una connessione eh beh non lo sai mai chi può dirlo c'è scusate posso salutare una persona a parte che saluto tutte le persone che ci stanno scrivendo ma in particolare volevo salutare Mario Speaker che è un mio amico ciao Mario Speaker ci aggiungiamo anche noi il saluto ciao Mario Speaker ehm no ehm io ho una piccola curiosità però dato che addirittura il maestro Piovani sotto al palco ti ha applaudito ehm insomma oltre a esserci del talento immagino che c'è stato anche uno studio dietro cioè nel senso è stato coltivato eh no no perché tutto autodidatta guarda io lo chiamo culo ah nel senso sei fortunato e nasci con con una con una dote certo poi io non ho se avessi studiato probabilmente eh avrei imparato a sostenere molto meglio oggi avrei ehm sosterrei le stesse note che sostenevo allora invece ovviamente cambia un po' tutto no con gli anni e con la mancanza di esercizio ma mai dire mai quindi quindi proprio un talento innato veramente complimenti ma no no cioè beh insomma complimenti perché per averci culo eh no è un talento è un talento cioè sono persone magari io lo vedo anche mi sono cimentato da poco cioè da qualche anno nel nel suonare il pianoforte no e c'è il mio maestro che è stato uno dei dei compositori più grandi che abbiamo avuto in Italia che è Luciano Michelini e e mi ha detto mh guarda io ne ho visti tanti di allievi però c'è chi ha il dono e chi no nel senso chi ha il dono eh quello che studia magari un allievo normale in dieci anni lui lo fa in un anno eh però insomma è comunque un talento cioè per quanto tu possa avere culo e fortuna comunque ti ritrovi con un talento però è vero se ti ci ritrovi ci nasci dov'è il merito? brava è quello che sto dicendo il merito sta laddove hai studiato ti sei impegnato hai fatto tanto allora sei cresciuto e tu dici bravo complimenti ce l'hai messa tutta io invece non ho fatto nessuna fatica capito? ah ok ho capito semplicemente è culo ho capito quindi dici è un fattore innato che io non ho coltivato e non ho fatto il minimo sforzo per averlo quindi totale fortuna sì esatto esatto chiaro chiaro fortuna 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 brava più carino di culo spanchi sì prego e ti vedo molto raggiante rispetto a ieri quindi sì sì ieri ero ti sei ripresa ti sei ripresa ti sei ripresa il booster ti ha sì però mentre ascoltavo veramente con gli occhi a cuoricino Barbara mi è un po' andata mi è un po' venuta anche la lacrimuccia perché parlando di intonazione canto eccetera la domanda sorge spontanea io sono stonatissima e il doppiaggio si può fare se una persona è stonata come una campana allora allora non esistono stonati musicalmente esistono squadrati ma non non tonati non gli stonati non ci sono diciamo che se sei più c'hai orecchio e più sei intonato e più sei favorito diciamo nel doppiaggio devi avere un po' anche un gusto un piacere di ascoltare da come tu parli dal suono della tua voce io non direi che tu sei stonata ma lo sono ma scusate perché se io ti metto a cantare anche solo tre secondi spacco i vetri vuoi cantare la canzone della ciccia magari non avete la voce educata appunto siete diseducate musicalmente ma è impossibile che siate stonate capito non ricordo la melodia io faccio questo è chiaro che è fastidioso no e questo è una voce non educata al microfono il microfono invece se io faccio questo è ancora meglio di quello che ho fatto fino ad ora no perché sto aprendo la gola ho aperto la gola e ho dato e ho dato altri colori ho dato ho dato altri colori questa invece è quella mia normale ma questa è soltanto educazione alla al microfono ma ma essere stonati in teoria è non colpire le note giuste no sì quindi se io ho un range di tipo non lo so come note chiaramente cioè io canto in camera mia così ma lo sento che ci fai sentire qualcosa Lorna così possiamo giudicare meglio no no ho già andato fammi capire fammi capire vedi te lo chiedo anche la canzone della ciccia tanto l'hai cantata un sacco di volte in questo canale dai vabbè se non se la senti Spanchi fallo tu ma io non saprei che cantare proprio ma il mio problema il mio problema è che quando io canto che magari faccia una persona un amico un compagno hai presente quella canzone che fa e la faccio nessuno mi capisce perché perché non riesco ma no ma perché le canzoni hanno non soltanto il come si dice il motivo principale poi ci sono ci sono tutte le armonizzazioni c'è l'accompagnamento è difficile da capire io pure sono intonata dico sai quel pezzo che fa no non ho capito no perché aspetta aspetta perché fa così no 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 non ho capito no perché manca tutto il resto capito dici secondo me sei troppo buona no secondo me bisogna 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 amarsi e apprezzarsi di più e dirsi solo cose belle ok questo comunque Lorna la chat è arrabbiatissima perché tu non hai cantato sappilo dai facci un pezzettino di una cosa che sai dai un pezzettino piccolo piccolo dai anche perché con Davide Perino hai cantato quindi Barbara si potrebbe offendere che con certo scusami cosa ho cantato la canzone della ciccia ah era la canzone della ciccia beh ma quella non è neanche una canzone 5-10 secondi 5-10 secondi per farci capire ma non lo so ma datemi una canzone di Natale che abbiamo di Natale di Natale Jingle Bear Jingle Bear Rocks no quella non la conosco bene quella lì dell'agrifoglio com'era quella me la chiedi troppo non so prendi Bublé insomma Natale pensi a Bublé se anche madrelingua inglese insomma va beh Jingle Bells va bene va benissimo va benissimo Dio perché va bene ok vai Jingle Bells Jingle Bells Jingle all the way oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh ok hai visto che ho fatto l'applauso non faccio tutte le note squillanti sbagliate no non sei suonata per niente non sei suonata per niente cosa dici io ho sentito molto di peggio effettivamente Lorna va bene ma questa era sì va bene ok basta un giorno quando mi verrà in mente una canzone che proprio mi riprendo su Whatsapp e la mando a tutti e vedrete va bene un consiglio che do a tutte e due sia Spanchi che Lorna di aprire la gola guardate la cosa semplice è già stare invece che così con la testa così con la testa un po' più dritta sentite che cambia il suono della voce fammi provare se io sto così se io sto così adesso io non cambio continuo a parlare adesso voi sentirete che mano mano che io drizzo la testa il suono cambia è vero è vero perché la gola si apre è questa dei fatti perché la gola si apre le corde vocali praticano di meno e la voce è più bella Spanchi sfrutta questi consigli assolutamente assolutamente ne farete tesoro sono sicuro sì io dovrò capire bene non so alle tre di questa notte davanti allo specchio a fare e a parlare raga Chuck's Fire ci consiglia non esistono stonati si può inserire come frase storica ogni cosa dice Barbara è letteralmente musica io la inserirei non esistono stonati è una bellissima frase quindi la inseriamo come frase storica una di quelle frasi storiche incoraggianti vero reali belle positive quindi l'abbiamo inserita l'abbiamo inserita dopo il contest pokemon sto studiando la chat dopo il contest pokemon facciamo il contest canoro nel gruppo armi per carità per carità dopo escono cose che vanno su internet è meglio di no è meglio di no c'è anche il mio amico Paolo oltre che il mio amico Mario una radio di mezzanotte ciao Paolo ciao Paolo benvenuto sul canale grazie per seguire e allora quindi Lorna è il tuo turno sì ho bruciato la domanda così prego Loredana per te vada grazie mille infatti neanche mi mi ricordo ok va bene questa è della della stonatura ah ok hai ragione ok quindi è colpa tua se io ho dovuto cantare grazie per la tua domanda allora la mia domanda guardando i mille milla ruoli che hai fatto hai spaziato tantissimo sei Mary Sanderson in Hocus Pocus però sei anche la badessa in The Nun lasciamo perdere ho visto al cinema i film horror si godono solo al cinema ragazzi e la mia domanda è che tipologia di ruoli preferisci cioè questi ruoli magari più leggeri comici no molto divertenti oppure le cose più tenebrose ma guarda mi piace spaziare mi diverte mi diverte un po' tutto e quel film lì è stato un disastro per me perché io non io ho paura non doppio i film dell'orrore proprio non li doppio mi rompo un piede no perché ve la racconto perché questa mi rompo un piede e Fabrizio Pucci mi chiama a fare un trailer di un film dico vabbè dai Fabri questo ragazzo mi accompagna vengo vado come stai da tanto tempo come stai solite chiacchiere va bene dai entra entro e parte sta scena io mi giro dico ma sei pazzo il film dice che è successo dico ma mi hai chiamato a fare un film dell'orrore io non li faccio io ho paura ma no ma non succede niente ma no no ma io ho il terrore per carità lei mi stai no dai ormai sono arrivata fino a qui ho attraversato la città dico però Fabrizio guarda credimi poi per il film chiamo qualcun altro rifaccio il trailer ma no ma non ci vede niente insomma è stata una roba una sofferenza terribile 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 non fai film dell'orrore nel senso volutamente sì mi fa ho paura ho paura io ho fatto un film dell'orrore che si chiamava People Under The Stairs ancora me lo ricordo che in italiano era una cosa tipo La Casa una roba legge un film famoso ma La Casa La Casa quale? La Casa La Casa La Casa quello che c'erano tutti questi che abitavano sotto le scale appunto cosa chiamava la casa aspettate adesso ve lo dico infatti perché la casa è quella con il giovanissimo Johnny Depp guarda a me il primo della casa l'ho visto a 10 anni lasciamo vedere allora adesso sono curiosa anche io eh sì no adesso devo capire cerca cerca allora La Casa Nera si chiamava La Casa Nera brava la Casa Nera è vero la Casa Nera la Casa Nera la Casa Nera morta sì loro West Graven eh West Graven vabbè in realtà non succedeva niente però io c'avevo l'assistente che siccome lo sapeva che io c'avevo paura poi io ero agli inizi quindi non è che mi potessi tanto rifiutare perché quando cominci dici vabbè dai ma non è che sto a fare non è che posso dire no a sto direttore poi pare che era con Renato Hickson non mi ricordo insomma un certo momento diceva attenta attenta che adesso attenta attenta che adesso non succedeva niente non so bene mai più un film dell'orrore ma come ti capisco anche io sono un fifone cioè i film no ragazzi gli vado alla larga io vedo solo le cose un po' così che insomma sono difficili da credere però se mi fai vedere il tizio che prende rapisce taglia cioè cose che potrebbero sono più thriller tipo i gore tipo hostel così non piacciono neanche a me perché quella non aprite quella porta quelle cose così non ce la posso fare raga io tutte le volte vedo un film horror e non li vedo mai però quelle poche volte dove sono stato obbligato a guardare i film horror no così così a metà ha visto The Nun The Nun sì sì The Nun l'ho visto perché i demonology fa parte di quella categoria lì che mi piace molto quel filone lì The Nun è quello che ho fatto io no? quello lì per carità di Dio beh è spaventoso proprio quello è stato il più spaventoso secondo me di tutta la diciamo per fortuna noi non vediamo granchi guardiamo soltanto la nostra parte e in realtà se lei a parte un po' di tensione per esempio a parte lo splatter io la pressione psicologica è la cosa io per esempio come si chiama quello lì come si chiama quello che c'è per cena chi c'è per cena oddio il film famosissimo brava io quello il film non l'ho mai visto al cinema ma il silenzio degli innocenti il silenzio degli innocenti non l'ho mai visto dall'inizio alla fine l'ho visto in sette otto pezzi staccati a casa in televisione con tutte le luci accese di giorno era quello con un bicchiere di vino un buon chianti era quello no? eh sì mamma mia che bravo l'ho vista anch'io quello buonasera cicciomora Zodacco tra l'altro Zodacco tranquillo tanto vai sul sicuro perché ci trovi qua tutte le sere da lunedì al venerdì dalle nove e mezzo alle undici e mezzo quindi qualora anche Twitch non ti inviasse le notifiche tu collegati che sa che ci trovi comunque mi fa piacere collegati collegati e scrivo una cosa molto figa the man under the hood maggiore di the people under the stair questo carino vero Zodacco molto carino e bene bene allora io io inizierei a leggere qualche domandina dalla chat vedo poi riprendiamo nello spazio insomma facciamo un po' palla tua palla mia però mi sembra carino anche darvi spazio e fare in modo che le vostre domande vengano lette quindi non tutto ovviamente la prima che vedo è di Gaetano è vero guarda guarda come vogliono il jingle trash ricercato ragazzi della chat ecco siete contenti adesso che avete il vostro jingle fatto da una professionista eh mica salutiamo Yolanda Granato ovviamente ciao Yolanda ciao Yolanda allora Gaetano scrive buonasera domanda per Barbara com'è stato doppiare Big Boo nella serie Orange is the New Black sei stata veramente epica chi me l'ha chiesto? Gaetano Gaetano menna Jack caro Gaetano ti darò una delusione terribile oh no ho chiesto di essere sostituita a un certo momento perché detesto quel personaggio e quando è finita quella serie sono stata felice perché non mi piace non mi è piaciuta non l'ho capita penso che non c'è per noi questa roba non c'è proprio vabbè no a noi a me tu sei persegnata ho sofferto ho sofferto profondamente nel farla trovo che lei sia un'attrice straordine bravissima veramente bravissima il coraggio di girare le scene che ha girato lei veramente ci vuole ci vuole coraggio e bisogna essere bravi come lei trovo che veramente sia un'attrice eccellente la serie non mi piace e non mi piace quel personaggio ho sofferto tanto ti dico la verità a un certo momento ho detto a Isabella ti prego che era il direttore di doppiaggio Isabella Pasanino ti prego mi sostituisci chi ci ha messo questa che è stata vabbè poi quando hai cominciato insomma è difficile quindi non sei riuscita a farti sostituire no però è finita finalmente sì grazie a Dio vabbè spero che Gaetano non ti fosse mi dispiace Gaetano perché quella serie ha un grande seguito ma non non ne capiamo il motivo loro dicono boh è tra le migliori sei bravissima perché uno Gaetano uno ci si mette comunque a fare anche se non ti piace il personaggio uno ci si mette con tutto con tutta la passione insomma quello che dicevamo prima a fare una cosa anche se non se non è nelle tue corde se non ti piace quel tipo di personaggio poi poi io penso anche un'altra cosa che se non ti piace un personaggio abbiamo un grande abbiamo anche una grande fortuna a poter spaziare fra tutti questi fra tanti diversi personaggi perché quando trovi qualcosa che non ti piace sicuramente è qualcosa che ti riguarda e ti dà modo di osservarti di guardarti dentro di capire delle cose di te e io di boh non so cosa non so cosa di lei che non mi piaceva forse questo questo essere come si dice non mi viene il termine italiano mi viene il termine napoletano ha smargiato un po' no? che ogni tanto mi appartiene ma in realtà sono vestiti che mi metto per lavorare e ho perso il fiore del discorso comunque quando qualunque sia il personaggio che hai davanti o ti metti a farlo credendoci e con grandissima passione o viene male beh anche insomma determina anche la professionalità da parte tua insomma beh se non lo fai così ma ci sta magari chi pensa che il prodotto sia che ne so un cartone animato allora va con un altro spirito in sale non sono d'accordo non sono d'accordo tutto quello che fai lo devi fare è pieno di queste persone che infatti con me non lavorano io lavoro soltanto con gente che ama fare questo lavoro qualunque cosa faccia perché io qualunque cosa faccio la faccio con la stessa identica passione se no A non mi diverto B non viene bene ed è anche è bello è anche giusto cioè nel senso anche perché poi i cartoni animati molti cartoni animati diventano iconici e le persone si affezionano da morire quindi è anche bello che chi affronti quel tipo di prodotto lo affronti col massimo della professionalità quindi sono d'accordo con Barbara in questo io guarda ti dico questo occhi di gatto è stato il mio primo lavoro io mi risento e mi sento male perché ero veramente molto molto acerba e si sente io lo sento tantissimo però insomma non ringrazierò mai abbastanza Piera Vidale che è stata la mia direttrice di doppiaggio a darmi questa possibilità io ci ho messo comunque tutto quel poco che già sapevo e che tutta la mia passione tutta la mia mi ci sono dedicata tanto diciamo che qualche anno dopo se ci hai avuto la possibilità avrei detto scusate rifamo quella parte che fa bene meglio però va bene proprio per quello che dici tu che poi restano cioè occhi di gatto io io veramente ho 42 anni di carriera io sono Kelly di occhi di gatto è uno di quegli anime che sono storici e basta ho doppiato delle cose bellissime difficili che ho sofferto ma tu hai fatto Kelly di occhi veramente ho fatto un sacco d'autres cose però vabbè però va bene insomma e con la fenice di X-Men non ti capita Jean Grey poi quando dico dico no poi ho doppiato anche quella figura invece a me a proposito di film d'animazione a me è piaciuta tanto diciamo la tua interpretazione in Madagascar 3 dove hai fatto la villain diciamo che deve catturare o Lione Bellissima ma poi è un personaggio fantastico che gli ha dato l'hai caratterizzata in un modo strepitoso secondo me beh insomma ho seguito l'originale perché anche l'originale era cioè in realtà noi quando siamo bravi abbiamo fatto bene quello che avevano già fatto ma è tua cioè hai cantato diciamo che nel doppiaggio dei cartoni c'è un minimo di creatività in più questo sì perché non c'è perché c'è un'espressività un po' appunto plastificata un po' un po' disegnata quindi magari puoi puoi spaziare un pochino di più ecco però ti attieni sempre a quello che è già stato fatto ecco ma eri tu che cantavi Derian Derian no ah ok però l'avrei però l'avrei saputo fare infatti mi è venuta la curiosità dato che hai detto prima abbiamo parlato del canto no io gliela facevo in sala ah no aspettate eri tu devo dire questo io ho vinto il provino col canto ah ma di quel provino della Dubois l'hai vinto col canto però però non hanno non ti hanno fatto che strana sta cosa hai vinto il provino col canto però poi l'unica canzone cioè quella canzone veramente particolare questa perché loro mi ricordo che hanno fatto il provino sta accadendo quella cosa che sarebbe dovuta accadere un'ora fa vabbè mi importa e mi distanza completamente mi ricordo di aver fatto il provino e di aver cantato e perché dovevano ovviamente dovevano dovevano come si dice sentire la stessa vocalità no ok si meccare meccare bravo e e niente e poi non ho poi però non ti hanno dato la parte no la parte gliel'hanno data ma non ha cantato no la parte cantata intendevo ho vinto ho fatto il coso ma non ho fatto la parte cantata le stranezze della vita sì sì questa era una curiosità che avevo su infatti Jackie sta cantando la canzone in chat ok andiamo altra domanda vedo Lost Boy ciao Lost Boy com'è stato doppiare in Hocus Pocus Mary Sanderson eh sì domanda tema sull'arrivo del sequel ok era divertente era quel tentana che parlava sì si chiama così è stato divertentissimo no adesso vi racconto un episodio di quel film allora Renato Vizzo che è stato il più grande direttore del viaggio dell'epoca moderna è quello che ha modificato le intenzioni cioè da quelli che facevano questo eh a un certo momento non c'erano più quegli attori lì ma c'era De Niro c'era eh e allora c'erano ancora i vecchi direttori guardi che lei la deve dire ma no ma lo vede che in originale non fa così non recita in un altro modo e quindi ha proprio è stato lui il primo a cambiare questo questo modo di recitare e ha insegnato a tutti noi come bisogna fare e però era un personaggio divertentissimo simpaticissimo oltre che un grandissimo professionista noi siamo stati molto amici nella nostra vita e io vado a questo turno eh a iniziare questo film e gli ho oh wow aspetta ti devo spiegare questo personaggio è milanese questa voce parla un po' allora questo qui è una figa da paura che tromba con tutti e c'era di più giovani e di più vecchi e di più cose e mi racconta tutta una storia di questa che trombava con chiunque per cui va bene ok va bene va bene anello 25 cos'erano ebbè no ma mi risalvi ma sei sicuro che era questo il film non era aspetta aspetta vedrai mi ha fatto così tutto il film vabbè poi a un certo momento ho capito che mi prendeva in giro ah io pensavo si fosse confuso non lo so aveva sbagliato sorella no no ci prendeva in giro ci prendeva in giro ci prendeva solo in giro aspettavi il momento il momento non arrivava mai esatto no invece è stato divertentissimo mi sono divertita molto poi quell'attrice era bravissima bravissima e poi adesso stanno per fare il sequel esatto l'ha scritto l'ha scritto la sboi questa domanda a tema sull'arrivo del sequel quest'anno addirittura e quindi potresti tornare chi lo sa perché poi dipende da dipende da tante cose questo mestiere va a vabbè lasciamo aperto cominciamo cominciamo a mandare mail di dovere mail per avere le voci originali no no non gliene frega più niente a nessuno guarda io adesso adesso non vi dirò non vi dirò naturalmente non vi farò nessun nome però c'è un'attrice che io ho doppiato c'è un'attrice che io ho doppiato che ha fatto una cosa che ha fatto una serie e siccome io non ho potuto fare il trailer perché perché non ho potuto non do elementi perché non mi va poi e giustamente il trailer è stato doppiato un'altra attrice che farà anche la serie farà quindi questa serie non è uscita ok mazza però capito così me ne potrei raccontare anche di peggio ma taccio come desideri cioè voglio dire non non ne frega niente a nessuno ragazzi questo è il problema ce ne importa soltanto a noi a noi che abbiamo passione per questo lavoro è un peccato perché insomma è sempre molto destabilizzante per quel che mi riguarda da fruitore sentire magari essere abituati a una voce e poi avere quel cambio netto così senza motivo un conto è quando c'è una motivazione dietro ovviamente tipo la natura che non possiamo farci niente ad esempio in caso di scomparsa ormai le ragioni sono proprio qualcuno ci ha raccontato che sono anche mosse tattiche per far sì che insomma che un attore non abbia sempre sempre la stessa voce in modo da avere meno potere contrattare su chi no? anche senza che andiamo sì 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 si poi capita benissimo vabbè lasciamo guardate anyway esatto passiamo ad passiamo ad Zodacco grazie mille per le belle parole le ho lette mi fanno molto molto piacere questa domanda è di Roberto quindi buonasera a tutti ciao Roberto vorrei in primis complimentarmi con la nostra ospite per la sua carriera e chiederle qual è il ruolo che porterà sempre nel cuore il ruolo che porterò sempre nel cuore ma allora io adoro doppiare Chandra Wilson e fare Miranda Bailey in Grey's Anatomy cioè perché anche lei è un'attrice strepitosa mi piace da morire mi piace doppiarla mi piace l'attrice e mi piace molto quel personaggio che ha disegnato veramente molto bene e e poi anche anche Brenda Brenda mi sono divertita tantissimo a farla come si chiama Brenda Johnson di The Closer ah sì sì no quella è stata ma tu guarda tante perché c'è una vecchia serie che si chiamava Chicago Hospital e e c'era questa attrice che si chiama Christine Lati che poi ha smesso perché si è messa a fare la regista sbagliando secondo me perché non ha fatto nessuna carriera invece era una brava attrice e quella ancora me la ricordo sono passati l'altro ieri qualche anno sono passati qua 30 anni e poi boh non mi viene in mente niente in questo momento comunque ci hai dato però sì Miranda Miranda è quella che mi piace mi piace più di tutte è un'attrice veramente pazzesca poi insomma in una serie che ha fatto ha fatto storia no perché insomma Grey's Anatomy è stata la diciottesima stiamo facendo la diciottesima pensate che è una serie che non ha avuto mai nessun premio incredibile incredibile mai nessun premio Grey's Anatomy no eppure è storica è storica secondo me ha una distribuzione pazzesca nel senso che siamo tutti giusti sui personaggi che doppiamo è molto curata e molto cioè ci hanno fatti complimenti loro eh noi noi siamo andati a conoscerli quando l'hanno presentata è stato bellissimo ah che bello bello un evento proprio apposito allora sono venuti alcuni di loro sono venuti il primo anno la prima stagione sono venuti a Milano a presentare a fare una specie di un piccolo tour di presentazione a Mediaset eccetera e io e Giupizzo che è la doppiatrice di vabbè la conoscete di Meredith e abbiamo saputo sta cosa e abbiamo detto ma andiamo a Milano io e lei così di nostro e non sapete che che figata loro sono veramente pazzeschi cioè tanto non c'è stodivismo che c'è in Italia poi presentavano una clip in originale e la stessa clip con le nostre voci in versione doppiata e loro si sono alzati sapevano che noi eravamo lì perché noi eravamo andate proprio come come le stalker no? i fan club noi eravamo delle fan e a dirgli noi siamo io sono la voce di Miranda giù qui la voce di Meredith anzi prima lei perché lei era la protagonista e loro si sono girati e ci hanno battuto le mani quando dopo che è andata la clip e a un certo momento T.R. Wills ma non mi ricordo come si chiamava il cognome quel personaggio che è morto alla prima stagione 007 come si chiamava Giorgio Malley lui ha detto ma il mio doppiatore non c'è che è Corrado Conforti ma non è venuto il mio doppiatore quindi voglio dire anche interessati incuriositi dal Corello ci sarà anche rimasto mai insomma non era non era una cosa organizzata in modo ufficiale cioè noi eravamo andate di nostra iniziativa lo ci hanno invitato a pranzo siamo stati a tavola con loro insomma è stato bello è stata una bellissima esperienza sì molto bello è bello quando poi si ha modo di incontrare no? il personaggio deve essere emozionato anzi secondo me dovrebbero proprio organizzarle più spesso anche perché abbiamo visto che gli attori sono veramente molto felici di conoscere poi la propria la propria voce in questo caso italiana quindi perché non non dare sia un riconoscimento comunque all'attore italiano che gli ha prestato la voce che è stato così bravo e che l'ha reso poi anche mainstream in Italia no? perché poi in Italia il merito abbiamo dei doppiatori fantastici c'è il merito poi se un prodotto riesce molto bene anche dei doppiatori esatto non sei d'accordo? no no eppure a volte i doppiatori salvano voci che in originale no e non fanno il loro lavoro perché devono doppiare eh ok brava per esempio Star Wars Anakin oddio come si chiama Hayden Christensen che ha una gestualità a livello di cioè proprio di espressioni gestualità del corpo che stanno benissimo col personaggio ma la voce lui era pure un attore credo un po' in erba quando l'hanno preso la voce originale e lo dico io io l'ho visto prima in italiano e non capivo le critiche tutti che dicevano dio che schifo l'attore di Anakin tutti i fan che parlano inglese non capivo ho detto mazza a me sembra bravo così però ovviamente l'avevo visto in italiano poi quando l'ho visto in inglese ho capito dov'era la pecca Lorna Lorna attenta perché mi sono beccato una cazziata da Carlo Cosolo quando dissi beh perché i doppiatori migliorano in realtà i doppiatori beh un attore lui mi ha detto lui mi disse proprio no perché il doppiatore deve fare quello che sente in cuffia quindi se l'attore è passatemi il termine ovviamente cane deve cercare di il più possibile di seguirlo cioè questo mi disse lui poi anche io credevo ma il nostro lavoro è questo cioè allora tu lavori su una cosa già fatta su un prodotto già firmato da un regista che lo ha voluto così se lui ha detto che quello va bene ma chi sei tu per giudicare e per dire no io lo faccio meglio comunque sbagli perché quel film esiste e quell'interpretazione è fatta in quella maniera tu non puoi migliorare tu puoi fare un'altra cosa che dal tuo punto di vista è migliore capito che voglio dire poi il fatto che a te possa piacere di più quello ovviamente ci sta tutto hai ragione hai torto non lo so questo però quel lavoro è già stato fatto cioè un regista quelli stanno in America e fanno i film noi stiamo in Italia e fanno il doppiaggio io dico sempre questo e il mio lavoro viene bene quando il mio lavoro viene bene tu non te ne accorgi se tu non ti accorgi che un film è doppiato allora io ho fatto un ottimo lavoro se tu ti accorgi del doppiaggio io ho sbagliato questo è quello che io penso chiaro chiaro non fa una piega perché io faccio e risvolta la giacca non faccio non creo niente è già creato tutto io devo fare quello che fanno loro o comunque rendere il più credibile possibile nella mia interpretazione quello che già esiste vabbè però insomma ognuno pensa come crede io lo penso così io penso che Cristensen stesso vabbè che ti ha fatto statore nessuno te lo toglie questo certe volte certe volte magari è così allora dici ah scusa Barbara scusa no 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 facevo facevo l'esempio per dire questa è una cosa che arriva un po' dal passato quando parlavo appunto del vecchio modo di recitare e delle voci a cui noi eravamo abituati probabilmente Marlon Brando senza la voce di Peppino Rinaldi questa cosa l'avrete sentita dire centinaia di migliaia di volte non avrebbe avuto lo stesso successo perché Marlon Brando c'era una voce e invece Peppino cioè a questo parte che Peppino si attaccava a qualunque cosa pure se doppiava una donna era credibile e aveva questa voce meravigliosa no proprio bella piena di armoniche piena di però era un'altra epoca capito era 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 un'epoca diversa in cui appunto i direttori di doppiaggio avevano quel quel modo di recitare diciamo che Marlon Brando sta a cavallo fra i vecchi John Wayne e De Niro quindi bisognava fare una scelta in quel momento e la scelta è stata facile perché fallo fa Peppino perché Peppino e Locchi in quegli anni hanno doppiato tutti tutti li hanno doppiati tutti perché tanto funzionavano comunque oggi Marlon Brando non sarebbe mai doppiato da Peppino Rinaldi lo doppierebbe lo so doppierebbe non so non mi viene a nessuno da dire però insomma una vocalità completamente diversa che gli somiglia di più all'epoca non si faceva questa cosa del match voice no all'epoca si sceglieva la voce che stava bene sull'espressività e che rendeva bene quel personaggio vabbè chiude vedevo una domanda di Andrea Andrea Crea25 ciao buonasera a tutti volevo chiedere a Barbara com'è stata la direzione di doppiaggio del film Venice Back con Julia Roberts e Lucas Hedge è stata come mai mi fai questa domanda è stata ho discusso un po' con Cristina Boraschi siamo amiche ovviamente perché perché per la prima volta secondo me la Roberts ha mollato questo suo essere sempre per benino sempre precisetta sempre vestitina sempre prippi sempre e si è un po' più lasciata andare e allora Cristina che è un'attrice molto intelligente molto logica molto di pensiero eccetera dice vabbè spiegami il personaggio e io le ho detto no non ti spiego niente perché seguila e basta perché volevo che facesse la stessa cosa facesse lo stesso tipo di percorso che coinvolgesse meno il pensiero e più l'emotività non sai una discussione abbiamo quasi litigato no non è vero non abbiamo litigato però lei ha discusso ah no perché tu invece no mi devi spiegare perché io lavoro in questo modo beh a me mi piace lavorare così allora te la spiego però insomma è stato bello come sempre poi insomma io sono ormai faccio praticamente ormai sono anni e anni ormai faccio soprattutto il direttore di doppiaggio quindi è stato bello anche perché con mi ero scritta anche dialogue quindi me la so cantata me la so suonata ho fatto tutto da sola poi quando puoi sceglierti i tuoi attori preferiti cioè preferiti quelli che secondo te stanno bene su quei personaggi e poi sentirli e dire vedi ma sono sbagliata ci hanno detto è come montare un'orchestra proprio è il 50% del tuo lavoro insomma è una fetta molto importante del lavoro del direttore di doppiaggio la distribuzione è fondamentale è stato bello una bella esperienza altra domanda ah questo è interessante su mamma mia com'è stata la tua esperienza di doppiaggio nel film mamma mia e nel suo sequel dove hai dato la voce al personaggio di Tania divertentissimo quello è stato divertentissimo l'attrice è fighissima non ho aneddoti particolari da raccontare perché poi io sono molto soldatino cioè entro in sala e sto attenta guardo fammela vedere poi magari succedono delle cose quando succedono quelle che sono successe ve le ho raccontate ah sì una cosa è successa nella prima nel primo film c'era il direttore di doppiaggio che dice no perché sai ricordate una delle scene iniziali loro salgono questa lunghissima scalinata per andare e dice no perché tu devi fare le scale e dice ti metto lo step dico ma non è più facile recitare cioè lo faccio recitare no che ci vuole e no lo facciamo non è che non lo sappiamo fare facciamo no no perché se fai le scale veramente allora viene meglio ecco questo cacchio di step e sali e scegli e sali e scegli beh hai fatto attività il lavoro e la palestra esatto hai fatto attività fisica va bene non voglio più lavorare con il direttore no no questo è l'episodio che vi posso raccontare è stato molto divertente ma quindi c'era uno step lei è un mito c'era uno step a disposizione all'interno dello studio di doppiaggio cioè come fu c'era un panchetto ci sono i panchetti quelli dove mettono i bambini o le persone o quelli un po' più bassi eccetera e ti fai un po' di quello step ovviamente poi te fermi e doppi perché sennò si sente rumore capito? tipo quando fai l'elettrocardiogramma sotto sto lozzo e ti fanno il panchetto e ti sali non l'ho mai fatto però sì immagino di sì ah qui passiamo ad un altro prodotto meraviglioso che è Will il principe di Bel Air vorrei chiederle come è stata la sua esperienza di doppiaggio nella serie Will il principe di Bel Air dove ha dato la voce a Vivian Banks ragazzi quella serie è stata storia cioè penso che la mia infanzia è stata con Will il principe di Bel Air sui canali e anche Vivian anche con Vivian Will il principe di Bel Air come serie è spanto beh lui era un personaggio pazzesco meraviglioso e quella serie era avanti per l'epoca soprattutto tutta la parte rap tutta la parte no dei ragazzi io in realtà sono la seconda voce di Vivian perché la prima stagione la fece Sonia Scotti ma non so perché l'ho fatta io forse lei non c'era più tempo se ho fatto un'altra cosa non lo so non mi ricordo e io ho fatto anche qualche direzione e qualche dialogo fare i dialoghi fare i dialoghi di quella serie è stata un'impresa titanica ah no non era quella era quell'altra scusate ho sovrapposto due serie ho sovrapposto due serie uno era il principe o forse era il principe vabbè insomma non mi ricordo comunque è stato anche quella è stata una serie bellissima Emma con Giorgio che faceva quel Giorgio Lopez che faceva quel come si chiamava il maggior domo il maggior domo signorino William signorino William era fantastico era Geoffrey si chiamava il maggior domo Geoffrey 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 che si era fighissimo è molto divertente ma scusate adesso stanno per fare ho sentito vociferare su tweet lasciamo perde lasciamo perde ma è una cosa un po' dramma sono avvelenato ma non ho capito cioè vogliono fare rifanno Willy rifanno un reboot di Willy il principe Bel Air che si chiama Bel Air dove invece di renderla sitcom cioè nel senso hanno fatto una rivisitazione in chiave drammatica quindi tutti i problemi sarà penso di sì una serie con lui sparatorie storie di droga c'è una cosa del genere ma c'è lui davvero? no lui nel senso il personaggio di Willy lui l'ha prodotta la sta sì però secondo me cioè lui lui lo sa lui lo sta producendo però secondo me ci sono dei prodotti che non vanno toccati per me è una strana voglio dire fare un reboot però in una chiave completamente diversa non so è una cosa che non si è mai vista vedremo magari ci sorprenderà io non la vedrò io non la vedrò per principio è il solito assolutista però è assolutista allora è come ti meriti i film tipo i sequel il Ghostbusters del 2016 il film è bellissimo il nuovo Ghostbusters ho detto il Ghostbusters ho detto il Ghostbusters del 2016 ah ok come mai hai guardato hai recuperato l'ultimo no non l'ho recuperato rimango della mia idea però per non far triggerare l'orna gli ho detto quello del 2016 bravo vedi come sei esatto e come è stata la sua esperienza nel doppiaggio della Regina Carlotta nella serie Netflix bellissima adoro la Regina Carlotta la sto ridoppiando perché c'è la seconda stagione è meravigliosa la Regina Carlotta è una stronza prepotente viziata superficiale wow adoro ma anche dei difetti dei personaggi migliori ma anche dei difetti sì sì è molto è molto divertente la prima stagione era a me era anche piaciuta vi dico la verità certo era un fumettone era una specie della novela non è che fosse il suo capolavoro della cinematografia però io mi ero appassionata a questa a sta storia fra sti due a lui che era bello come pochi al mondo questa Regina fichissima sono stata molto grata a Claudia Catani di avermi ci distribuita ciao Claudia perché sì mi sono divertita un sacco e mi sto divertendo cioè sono andata la settimana scorsa a fare delle puntate fighe ti chiedo a proposito di Miranda Bailey se ti piace oltre che in Grecia Anatomy anche nello spin-off Station 19 la serie tv di Vigile del Fuoco io non l'ho mai visto quindi non so di che Station 19 guarda io non amo il personaggio del marito di Bailey perché penso che Bailey non debba avere un marito ho sempre contestato questo fatto sta un po' fuori dal suo personaggio secondo me è l'unica cosa che non ho condiviso però questo da spettatrice da appassionata poi da professionista lei è sempre uguale lei è sempre Bailey è sempre la stessa mi sembra che faccia proprio le stesse cose cosa ne penso ho detto cosa penso in generale del fatto che esista un marito quindi fosse stato per me non sarebbe esistito manco Station 19 perché non ci sarebbe stato lui però detto questo ripeto loro stanno in America e fanno il cinema noi stiamo qua e fanno il doppiaggio grazie che c'è anche Station 19 così faccio degli altri turni e Bailey è sempre uguale è sempre lei è sempre lei è sempre lei oggi andiamo di serie storica in serie storica è una mamma per amica vorrei chiederle della sua esperienza di doppiaggio dove hai dato la voce al personaggio di Babette ti posso parlare di mamma per amica fino a dopo domani allora arriva questa serie la dirigiamo in due no inizio io a dirigerla e vabbè poi c'è anche un altro episodio che non so se vi posso raccontare che no non ve lo racconto perché non so se ve lo posso raccontare dunque iniziano queste puntate e io e Giuppi sempre più facendo senti ma io voglio andare a vivere a star solo ma io pure andiamo a cercare siamo andate come due deficienti su internet a cercare star solo pensando che fosse un paese reale e invece abbiamo scoperto che è il set di ritorno al futuro perché è lì che hanno lo sapete no che è la piazza il paesino di star solo è il set della piazza del campanile di ritorno al futuro e niente noi abbiamo vissuto a star solo nel senso con quello spirito per tutta la durata di Gilmore Girls che c'ha quel titolo di merda permettetemi perché una mamma che non vuol dire veramente un cacchio quella no le ragazze le Gilmore ma i titolisti lasciamo perdere per me è una delle serie più belle che siano mai state fatte perché è una cosa un po' a parte è proprio è proprio è un po' un sogno di tutti no perché non è per quanto riguarda il genere non è una siccom non è una una cosa romantica non è sta a metà strada fra tutte queste cose no è pieno di personaggi bellissimi racconta era il sogno di questo paese dove veramente tutti vorremmo vivere perché è proprio l'america sì sì dove litigano anche ma insomma è la leggerezza fatta paese e io ho fatto questo zuccherino questo personaggio che era diventissimo poi c'è stato un anno Babette non c'era più c'era stata la sorella di 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 che aveva doppiato Emanuela Rossi e Emanuela a un certo momento pure lei non so perché non poteva farla forse perché era partita per il teatro e all'ultimo momento quando tu devi andare in onda e devi doppiare oggi per domani dico vabbè la faccio io tanto sta stagione Babette non c'è nella stagione successa sono tornate tutte e due e ci siamo dette dice ma tu quale vuoi e Giucchi mi fa dice ma tu quale vuoi doppiare io voglio doppiare Babette era diciamo un quarto dei soldi non pregava niente era troppo divertente fare Babette vabbè insomma mi è piaciuta tantissimo mi piaceva mi piaceva tantissimo mi piacerebbe che facessero più serie come quella che ti soprattutto per lavorarci perché proprio ti alleggerisce l'anima ti alleggerisce il pensiero bellissima bene ok vorrei complimentarmi per il doppiaggio del personaggio di Fiona nel film About a Boy e chiederle com'è stato doppiarlo tristissimo perché io mi ci è un remedy ah vedi Willow by the river ha risposto scusate sto anche guardando la chat la chat e è stato molto triste perché io un po' mi mi medesimo no nelle cose che faccio e poi era anche un periodo un po' triste della mia vita quindi un po' lo triste del mio un po' quella è veramente depressa uno è stato triste la risposta è è stato triste è stato triste però comunque è bello che comunque fai bravi attori insomma è sempre un privilegio quando dubbi un film importante insomma dei temi un po' tosti insomma io di mio preferisco la sitcom però però poi faccio appunto quello che devo fare tranne i Jotter quello che mi tocca tranne i Jotter Jackie Jackie chiede cosa ti è interessato di più del personaggio di Jean Grey beh insomma la sua facoltà questa facoltà di mentalista è bellissima e la possibile e guarda ti dico una cosa in più ti dico una cosa che mi è interessata a me personalmente Barbara come professionista doppiare un'attrice più giovane e fichissima difficilmente mi hanno fatto fare le belle e e quindi è stata una prova per me perché la bella richiede una serie di canoni e una vocalità di un certo tipo penso di esserci riuscita perché poi mi sento e non mi faccio cagare quindi ma stoppa super toppa e quindi diciamo dal punto di vista professionale quello è stata una sfida bella e poi il personaggio mi piaceva mi piaceva questa sua facoltà cazzo tosta vero bella vero ma ti eri un po' appassionata alla storia perché poi sembra che muore poi ritorna visto com'è si 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 beh è finice devo aspettare non è stata una sorpresa quando poi ti hanno richiamato non del tutto diciamo ci stava a parte che poi si sa le cose le sai quattro anni prima in realtà perché questi hanno già pianificato tutto e più o meno si sa bene ma solo io non apprezzavo la coppiata Jean e Logan perché tutti ti favano per loro io non ce li vedevo per niente insieme poi lei aveva già esatto aveva già ciclobe che ci stava meglio quindi questo triangolo amoroso scusa però ci stava meglio tu perché sei fissata nello stereotipo del bel ragazzo no a me ciclobe non piace neanche cioè non è il mio tipo né fisicamente né caratterialmente però sta cosa della bella diciamo non so come dire irraggiungibile no con tipo non lo so il mezzo barbone ubriaco violento stai comunque stai comunque stai comunque a parlare di Hugh Jackman nel mezzo barbone ubriaco e violento cioè non è che hai preso il mostro della strada barbone ubriaco violento tipo no però ce sta nei canoni lei è bella e lui ha da puzzare no bello e dannato fastidio hanno proprio comunque quanto ci siamo divertiti guarda con Fabrizio Pucci con cui siamo molto amici sono combustibile perché c'è un'area forte quindi immagino sia stato un film che ancora si poteva doppiare insieme insomma le scene nella stessa quello è 2000 credo sia stato uno dei primi cinecomic forse incidevamo separati perché già ci cominciavano a chiedere viste separate però provavamo insieme stavamo in sala insieme non mi ricordo se incidevamo separati qualche volta sì forse avevamo già cominciato a incidere non me lo ricordo non me lo ricordo ma è venuto prima X-Men o Spider-Man 1 cioè il primo X-Men X-Men 2000 sì Spider-Man 2002 guarda com'è informata adesso cerco guarda proprio per metterla in qui no non erro non erro dai allora il primo Spider-Man è vediamo un po' di Raimi no? sì era 2001 era del 2002 brava Spanchi adesso vediamo il primo X-Men no vabbè se Spanchi c'ha ragione me ne vado ragazzi è stato il mio primo film poi l'ho detto anche a Coltorti senior allora X-Men 2 del 2003 però il primo X-Men è del 2000 attenzione brava Spanchi brava Spanchi ce l'ho preparata hai studiato hai studiato ah questa domanda bellissima su Sabrina vita da strega come è stata la sua esperienza dove è data la voce alla mitica Zelda Spellman guarda anche quella è una serie molto carina molto carina anche lì ci siamo divertite come pazze con Chiara Salerno facciamo queste due deficienti eravamo diventate proprio sia Hilda sia Zelda anche nella vita di tutti i giorni quella la doppiavamo veramente insieme stavamo in sala insieme e ridevamo moltissimo e molte volte abbiamo dovuto rifare incisioni perché proprio ci venia da ridere soprattutto il personaggio di Chiara Hilda che ha tutta questa vaghezza che la mia era tutta Sabrina ti ho detto che è quella che sapeva sempre che cosa si doveva fare e stai tutta attenta fai questo invece quell'arte era proprio fuori dalla grazia di Dio divertentissima siamo divertite veramente tanto sono stata parecchio fortunata vedi mi state facendo pensare ho sempre pensato di essere fortunata però mi state facendo pensare che ho fatto un sacco di cose in cui mi sono ci ho divertito tantissimo e a proposito di divertimento c'è una domanda da Zodacco che scrive magari una domanda interessante potrebbe essere qual è stato il doppiaggio più divertente o quello che ti è piaciuto di più che tu abbia mai fatto durante la tua carriera quindi io separerei le due cose nel senso il più divertente e se c'è quello che ti è piaciuto di più allora guarda vi dico subito che il doppiaggio più divertente l'ho fatto come direttore di doppiaggio adesso ho appena finito una serie bellissima che vi invito a vedere che si chiama Shits Creek che non è fiume di merda ma è il creek di shit genitivo sassone è una delle serie più divertenti che io abbia visto nella mia vita di Eugene e il figlio Levi avete presente Eugene Levi vabbè insomma una serie meravigliosa e quello è la cosa più divertente che ho fatto come direttore di doppiaggio come doppiatrice boh aspettate che consulto Gianna effettivamente ho messo tipo su tutto in famiglia o cose del genere sulla direzione divertente no molto più divertente non avete idea lo cercherò lo cercherò adesso non avete uscito idea credo di sì credo di sì madonna ma io come faccio domani la prima cosa che vediamo è Shits Creek adesso non lo mollate un personaggio divertente che però forse non ricordi tu e non si ricorda nessuno ma io me lo ricordo in un film di Whoopi Goldberg che in italiano si chiama Fanny Money come fare soldi senza lavorare una cosa simile un titolo un po' strano gli hanno dato e praticamente c'era Whoopi che lavorava con questi banchieri ma nessuno la rispettava perché era una donna nera e quindi lei va e si traveste da questo uomo bianco no? e fa tipo una fortuna diventa tipo e tu praticamente doppi questa donna molto seducente che cerca appunto di sedurre Whoopi vestita da uomo perché non sa che in realtà è una donna e quindi tipo gli si lancia addosso si spoglia c'è Whoopi che gli fa rivestiti usa il cervello si chiamava Camille il personaggio le ricordi qualcosa del genere? no Lorna tu citi sempre queste cose no 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 Lorna pesca Lorna pesca sempre quei prodotti che vede solo lei fantastici lei e altre quattro persone di nicchia possiamo dire di nicchia però fantastici e poi qualsiasi film con Whoopi fa ridere cioè questo è vero infatti lo recupererò anche se sembrava spanchi non lo ricordo vagamente ma me lo andrò a vedere anch'io sai che c'è io esco dalla sala e rimuovo quando prima ho detto io non lo so che ho doppiato veramente io non lo so cioè c'è qualcosa adesso scorrendo la lista mi è venuto in mente il personaggio più divertente che ho doppiato che nessuno ha visto perché noi no non l'ha visto nessuno perché noi abbiamo doppiato una serie che si chiamava Drew Carey Show che in America è andata benissimo Drew Carey era tipo la Madonna gli davano i bambini in braccio per farli benedire adesso lo sto esagerando ovviamente però per dirvi negli anni 90 e c'era iniziava il fenomeno del carpooling loro vivono a Seattle erano dei travè di Seattle che una città molto inquinata quindi giravano con questa macchia e in questo ufficio c'era questa stronza orrenda brutta incattivita personaggia che si chiamava adesso ve lo dico dove cacchia sta? l'avevo letto prima mi sono andato in mente di ocai che si è quello io mi sono divertita a doppiarla come una pazza ma ovviamente non è mai andata in onda non si sa perché ci hanno fatto abbiamo doppiato tutta la serie? ma è normale che un prodotto venga interamente doppiato cioè succede una volta Drukari Show che Katie Kinney si chiama l'attrice il personaggio si chiama Mimi Bobek era odiosa ce l'aveva a morte con tutti trattava tutti male faceva ridere ovviamente era una sitcom quindi faceva le battute erano costruite era bellissima e un'altra serie molto divertente che ho doppiato non so se l'avete vista è una serie francese che si chiama Sophie Paquen anche quella una serie particolare quella era tipo un spirito di Gilmore europeo però tutte cose che nessuno ha visto quella è andata in onda però un'altra un'altra carina beh è quell'attrice stupenda come si chiama quella i Miller l'avete visti i Miller quella anche quella una sitcom niente tutto quello che mi piace a me non hai i Miller anche perché i Miller mi ricordo non è come ti spaccia la famiglia no non c'entra niente quello lo so come si chiama in italiano adesso ve lo dico sto cercando è che tu hai fatto un milione e mezzo di cose si chiama The Millers erano brevi episodi da 20 minuti lei è questa donna questa cicciona un po' più grande di me infatti faceva benissimo meglio di me sinceramente Rita Savagnone però insomma per fortuna l'ho doppiata anch'io mi sono divertita tantissimo e vabbè non l'avete vista quindi The Millers quello che dici te quello che dico io come ti spaccio la famiglia però quello è il film lei parla della sitcom quella del 2013 si vede che il film è presa da quello il film è quello con Jason Sudeikis e fa morire le risate tra l'altro però no la non conoscevo la sitcom ho visto vedendo adesso ah ok molto divertente molto divertente vedi abbiamo abbiamo materiale da recuperare Spanchi e Lorna per mesi dopo questa sera esatto sì ma la prima cosa in lista è Fanny Money no Shits Creek sì Shits Creek per me mi è incuriosito tantissimo Shits Creek ragazzi Shits Creek non ve la perdete perché è una roba è insomma non ci scollerare lo andremo a vedere no infatti non vi dico niente non vi dico niente ah ma ragà l'attore sto vedendo adesso Shits Creek il cast l'attore Eugenie Livaia adesso hai capito Eugenie Livaia quello è il padre di Jim in American Pie ho capito chi è no fantastico lui e dentro ci sono tutti e due i suoi figli veri e quest'altra attrice che è la mamma di mamma perso l'aereo e il cast è pazzesco una giovane attrice geniale bella come poco e comica come poche altre vabbè bello no no sono curioso sono curiosa la recupererò e e invece Twin Peaks ti è piaciuta doppiarla beh altra figa ecco oltre a Jane Grey bellissima bellissima sì anche se non ci ho capito niente in pochi ci hanno capito ci ho capito ci ho capito poco di Twin Peaks poi l'ho rifatta anche nel l'hanno rifatta anni dopo e l'ho ridoppiata Norma sempre bella come il sole sì è vero l'hanno rifatta qualche anno fa pochi anni fa sì è vero è vero beh quando l'ho fatta all'epoca erano anni un po' di incoscienza un po' di ci rendevamo conto mi rendevo conto poco di quello che facevo non immaginavo che Twin Peaks sarebbe diventata una serie forse nessuno di noi se lo immaginava che sarebbe diventata una serie cult no no forse forse gli adulti sì noi eravamo ragazzi non capivamo tanto cioè non è che non capivamo tanto non ce lo chiedevamo eravamo entusiasti di di farlo e basta insomma c'è una domanda interessante di Willow che dice sia il personaggio di Brenda Johnson in The Closer che quello di Kelly in Occhio di Gatto sono due rappresentazioni di una femminilità forte e consapevole a quale dei due personaggi ti sei sentita più vicina tenendo anche conto che li hai interpretati in due momenti diversi di carriera e di vita guarda sicuramente a Brenda perché perché Brenda è una bella donna più o meno normale Kelly è una bomba sexy è difficile tenere il passo forse oggi mi sentirei più vicina a Kelly ma perché ho la maturità no per 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 poter essere una bomba sexy purtroppo quando hai la maturità per essere una bomba sexy non c'è più il fisico questo è una roba è un problema per le donne che dovrebbero ascoltare le madri le zie le nonne quando gli danno i consigli invece no quando sei giovane pensi di saperne più degli altri e comunque sicuramente sicuramente Brenda Brenda è un personaggio proprio che ho amato tantissimo tantissimo mi piace con il suo modo un po' nevrotico purtroppo in italiano non abbiamo potuto rendere il fatto che lei è una donna del sud che lavora è una donna di Atlanta che lavora a Los Angeles quindi lei ci ha proprio thank you thank you so much hai visto quanto vuoi dire grazie 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 mille che abbiamo io ho ridato col modo ma lì c'è proprio un accento differente tant'è che loro la chiamano la chiamano Miss Rossella come Rossella Uara di Via Colvento che era di Atlanta anche lei e soprattutto inizialmente non tollerano che una donna vada a dirigere una squadra omicidi a Los Angeles purtroppo nel doppiaggio ci sono delle sfumature che si perdono questa degli accenti questa delle regionalità non la puoi fare in italiano che facevo facevo napoletana facevo siciliana non ci credeva nessuno poi so voglio dire non era così e allora la ridai un po' con il modo no però ecco per rispondere sì mi sento mi sento sicuramente più vicina a Brenda che nonostante le sue stranezze è più normale di una di una ladra strafica con la tutina di latex con le tinnone i capelli non so con il bidino di vespa perfetta di un cartone animato ecco anche se mi piacerebbe essere gay altra domanda altra domanda ti chiedono ti chiedono sono tantissime ragazzi io ne pesco un po' poi tra tra una decina di minuti andiamo in chiusura perché insomma non vogliamo sequestrare la nostra ospita ma ce la facciamo ancora ne possiamo leggere ce la facciamo ancora a leggerne un pochino insomma non tantissime come è stato non tutti amici ovviamente lo sapete cioè peschiamo peschiamo a caso come è stato doppiare Flo in Cars e Miss Grunion in Mr. Peabody e Sherman dove Mr. Peabody Grunion è divertentissima me l'ero scordata quella carina lì mi sono divertita un sacco e invece Flo vi dico la verità parlava talmente poco niente di che non mi sono non mi sono mai a passione non capivo non capivo non l'ho ben inquadrata non l'ho però insomma ho fatto quello che mi avevano chiesto senza esserne troppo consapevole ecco non ho molto partecipato alla costruzione del personaggio anche perché aveva molto poco e non capivo l'animazione neanche cioè non non era il mio genere forse non non so dire però erano tutti contenti ho fatto il mio l'ho fatto e invece no quella era carina quella mi sono tirata un sacco invece non me la ricordo era cattiva pure quella perché a me mi fa sempre le stronze che i contralti fanno sempre le cattive i soprani fanno le buone i contralti fanno le cattive ma un contralto è una voce bassa? è è una voce che ha un range sì che comunque sì sì le voce un po' più basse allora le cattive hanno le voce basse eh sì perché i protagonisti hanno tutte le voce così carine ma io ho una specie certe stronze che parlano così che ti raccomando fantastico e ragazzi i nostri i nostri follower sono preparatissimi tirano fuori dei dei ruoli fantastici esperienze con Bentina Bickley o Berkley Bentina Bickley Bickley in DuckTales Bentina Bickley l'ho doppiata l'altro giorno è la tata è la tata dei DuckTales DuckTales sì è la tata è un po' è una un po' così che era un agente segreto e poi è diventata è andata a fare la tata da Paperon dei Paperoni suo vecchio amico l'altro giorno sono andata a doppiarla è carina è divertente molto divertente mi piace? vedi una soprano non potrebbe mai fare una voce così capito? o meglio sì qualcuna ci arriva pure diciamo non c'ha non c'ha non sta comoda no? in queste in queste tonalità invece Chuck's Fire chiede come è stato tornare nel ruolo di Zia Zelda nelle serie nella serie le terrificanti avventure di Sabrina non l'ho doppiata io molto male molto male a meno che non sia non dobbiamo già ancora doppiarla a meno che non c'è stato un cameo magari della vecchia attrice ma non credo non lo so io non l'ho vista la serie perché io sono molto legato a Sabrina vita la strega sì c'è stato un cameo delle due sorelle ma io non ci sono potuta andare ah ok ecco perché non ci sono potuta andare ecco perché perché che facevo non mi ricordo facevo Schitt's Creek stavo a tre turni al giorno non ci avevo un buco ah ecco vedi allora si svela l'arcano allora c'è stato un cameo della vecchia attrice però Barbara non l'ha potuta doppiare per i motivi che ci ha detto adesso con Michele Gammino se non mi sbaglio che mi è dispiaciuto pure perché mi piace tanto Michele Gammino mi sta simpatico ok ok quindi capiamo la confusione insomma infatti dicevo l'attrice era ok Barbara ah sì questa abbiamo già risposto di doppiare norma in Twin Peaks e mi sa che c'è un'altra sotto sempre su ma Twin Peaks si è andata comunque c'è leggo questo commento di Chuck Spire che ti fa anche è una domanda cioè non è una domanda ma un commento però è carino quindi lo voglio riportare buonasera Barbara fantastica in Grey's Anatomy vedo la serie fin da quando avevo 12 anni adesso ne ho 23 sono cresciuta con le vostre voci bravo a tutti Giuppi e Barbara sono di famiglia sono cresciuta con voi fin da una mamma per amica e da anni con Grey's Anatomy quindi grazie col cuoricino amore grazie a te non ti trovo perché eccola l'ha trovata Chuck Spire Chuck Spire tesoro grazie a te beato a te che c'hai 23 anni io sono 23 anni quando ho cominciato a fare il doppiaggio 23 anni parlando di canto e doppiaggio le sarebbe piaciuto un adattamento delle canzoni dei due mamma mia per poterle cantare o comunque da poter interpretare anche la parte cantata coi testi in originale ovviamente sì ovviamente sì perché cantare ve l'ho già detta la mia passione però però insomma sono operazioni che lasciano un po' il tempo che trovano come quando io l'ho fatta una cosa simile io ho doppiato e cantato Miranda Richardson nel Fantasma e l'Opera quando è stato fatto il film e come si chiama Andrew Lloyd Webber ha chiesto che il film fosse doppiato interamente quindi anche le canzoni in non so undici lingue se non mi sbaglio tra cui il cinese il francese insomma è stato doppiato operazione assolutamente non condivisibile per lo meno da parte mia però è stato bel comunque è stato bellissimo è stato fatto un lavorone pazzesco meraviglioso tra l'altro è stato fatto veramente un lavoro meraviglioso di adattamento delle canzoni da Giovanni Baldini e e altri adesso io mi ricordo che c'era lui Nanni Baldini perché io lo chiamo Giovanni tutti nessuno se dico Giovanni Baldini dice chi è è Nanni Baldini se chiama Giovanni e e lì ho cantato ho cantato l'operetta ho cantato nel fantasma dell'ocera Madame Girie e quindi sì sì certo che mi sarebbe piaciuto mi piacerebbe cantare tutte le canzoni di film le colonne sono allora Tommy come è stato doppiare Phoebe Banks nel film Disney come d'incanto che presto uscirà il sequel quest'anno e anche ammesso non me lo ricordo va bene oddio ma non mi ricordo proprio sto film che facevo Tommy dici dici tu che sei sicuramente più preparato di noi nel film comedy anche se lato Disney Lorna chi è Lorna Spahn che dovrebbe no non sono io io lato Disney vecchio figurati però adesso aspettate la vado a cercare adesso la cerchiamo tutti Phoebe bang mi sembra ho presente il film però il nome ma c'è un'edincanto non è quel film dove cantano anche a me mi dicono che è una tuffatrice pensa te ma mi sa che è una cattiva è tipo una sorta di ma sicuro è una cattiva se non è struzza non la vogliamo ma è tipo una sorta di non so come dire tipo una sorta di strega malefica per questa pseudo cenerentola in comedy incanto credo te lo dico ma la fate vedere voi l'avete trovata lo dico a voi lo dico qui alla televisione io se metto Phoebe Banks mi esce una strega cioè mi esce una strega a me mi esce una strega bella però perché ti esce una strega dove cacchio è effetti speciali costumi dopo Phoebe Banks ma la fate vedere lasciate non sapirci niente mi confermate che è questa questa strega non so con una sorta di corona non so sì c'è scritto Phoebe Banks però sta Phoebe Banks ah aspetta su IMDB forse la trovo è uno dei colleghi del personaggio di Patrick Dempsey allora non può essere sta strega che te devo dire quindi siamo va bene ok non si è capito siamo stati siamo in crisi sul personaggio di Phoebe Banks però ci sta ragazzi Barbara ha doppiato il mondo quindi è normale ma mica tanto sai io ho fatto soprattutto il direttore di doppiaggio quindi è una parte ma in pleno di azioni hai veramente tanti ruoli in realtà anche iconici cioè bellissime anche attrici sì perché ti ho detto ho avuto la fortuna di fare cioè IMDB non conosce Phoebe Banks se volevo dire sta cosa non so che sia ma la nostra allora Gaetano ci consiglia di mettere in originale il titolo Enchanted magari fino al mio ma quella mi è uscita sì ma quello ok la coppia che sta dietro quella del divorzio ha scritto non è una strega non ci vede nulla Willow ha scritto quella del divorzio che sta per divorzio aspetta no mi è uscita mi è uscita chi lo sa ci siamo incartati si dormiremo la notte tutti a fissare il soffitto non credo che andrà così è una strega di colore è una strega di colore quindi è lei è questa della foto l'ho trovata incredibile è la tizia che lavora in ufficio Willow dice c'è la coppia che sta per divorziare aspetta sì ma c'hanno che c'hanno tipo una scena è quella dice Gaetano da quel po' che si vede sembra molto ambiguo dice Magro è buonissimo purtroppo Willow io ti sto leggendo lo sto dicendo da tre minuti la coppia che sta per divorziare però non ho visto il film quindi non so di che stiamo parlando non lo so la coppia che sta per divorziare non lo so non me lo ricordo ve l'ho mandata sullo spam ok non me lo ricordo sì va bene grazie deve essere stata una grande partecipazione non so non lo vedo neanche nei credits del film ho scorso 18.000 nomi non allora Cicciomora Cicciomora io ti ringrazio che mi hai inviato la foto nello spam ma sono pigro e non la metterò online cioè non la farò vedere a tutti ma arrivi tardi è quella che ho fatto vedere io sì purtroppo non si è vista molto bene ma si è capito che non capiremo bene chi è Phoebe Banks ma secondo me anche se la vediamo la inquadriamo sì nel senso la guardiamo e siamo di poco bene comunque secondo me se vi posso dire una cosa Phoebe Banks puoi dirci tutto ci ha rubato fin troppo tempo esatto è vero ha rubato un po' ben detto e sono d'accordo ero proprio ero ma no no c'è un cast quanto gli è costato sto film cioè sono tipo 8.000 attori ma non c'è non c'è Phoebe Banks vi vorrei dire mannaggia ma che c'aveva una scena forse a questo punto se dicono è la coppia divorziata e l'immagine che esce sembra una coppia che sta seduta lì allora scusami come mai come mai mi hai fatto questa domanda invece chi si appassiona ai personaggi secondari no ma va bene però ci deve essere qualcosa di ci deve essere qualcosa niente non sta neanche nel resto del cast in ordine al fronte non esiste Phoebe Banks non esiste non esiste perché non esiste in realtà in realtà non esiste ma perché perché avete riscattato un ban della parola taggando una persona che dite che dite perché non abbiamo un comando in chat che permette di usare i gigovat che sono i punti canale per bannare una parola cioè nel senso noi streamer non possiamo dire quella parola per 10 minuti per 5 minuti o una persona quella persona verrà sospesa dalla chat per 5 minuti è stato usato il ban della parola taggando una persona quindi è stato fatto proprio un casino ragazzi cioè quindi potevano bannare Phoebe Banks e invece invece no e invece no comunque ragazzi e ti hanno bannato hanno bannato ciccio mora però hanno sbagliato perché doveva essere un ban della parola io ho detto ciccio ciccio mo vabbè non rispetta nessun ban proprio esatto esatto mi piace però dai torniamo a serie un attimo io interrompo qua le domande perché veramente andiamo in chiusura però sei sicuro di non voler fare la domanda sulla mamma di che di Heron in Mean Girls sono sicuro sì guardami ti ringrazio però penso che anche perché ci sono state altre domande su Clarabella vedo altre sulla regina di ghiaccio quindi perché dovrei darti questa preferenza però però dai la domanda conclusiva Barbara con cui noi finiamo le nostre live è questa ti chiederei uno o più aspetti del mondo della recitazione in generale o del doppiaggio nello specifico che non ti piacciono e che magari preferiresti fossero diversi aspetta aspetta ricomincia scusa perché stavo leggendo una cosa un commento stavo leggendo una cosa no no dici 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 che magari preferiresti fossero diversi e non ti piacciono sta risuccedendo quella cosa ragazzi non vi perdonerò mai una cosa di cui parliamo all'inizio c'è quindi una doppia apparizione è stata esatto a quanto pare si troverà facciamo così ci impegniamo a inviargli il link dove potrà dove potrà rivedere dove potrà rivedere l'esibizione sono rapita sono rapita e gli aspetti che mi piace scusami abbi pazienza che non mi piacciono del doppiaggio che vorrei diversi si che magari se preferiresti fossero diversi hai tempo si hai 9 e mezza ma la dovevi fa sta domanda perché stavamo ancora a parlarne diciamo in generale che c'è poca formazione quella poca formazione che c'è è fatta male nella maggior parte dei casi poi ci sono delle eccezioni per fortuna però in generale manca manca la formazione manca la formazione cioè nel senso che tanti doppiatori dovrebbero come dire anche perché nel senso la formazione Barbara toglici un dubbio nel senso la formazione intendi formazione specifica nel doppiaggio formazione d'attore principalmente intanto bisognerebbe partire da quello cioè dal fatto che i doppiatori sono i doppiatori sono degli attori che poi prendono quella specializzazione della recitazione da fermi a sync ma fondamentalmente sono degli attori poi ogni tanto c'è qualche eccezione nel senso che non hanno che non vengono propriamente da un percorso attoriale però sono in grado di recitare e sono in grado di recitare bene al doppiaggio e quindi va benissimo sono proprio doppiatori in purezza diciamo così e e poi ci sono i dialoghisti che dovrebbero essere dovrebbero saper scrivere i dialoghi mo si sta commuovendo quanto è carino scusate vabbè lo confesso io sono una fan dei maneskin sto guardando con la coda dell'occhio Sanremo e c'è Damiano in lacrime e io mi viene da piangere pure a me perché potrebbero essere i miei figli e io sono pazza di loro va bene basta torno a noi ecco questa passione mi piacerebbe trovare anche al doppiaggio questi ragazzi sono dei ragazzi che fanno con un'enorme passione il lavoro dei musicisti e hanno una grande successo e hanno un grande successo meritato successo perché ci mettono veramente la loro anima allora però abbiamo anche un grande talento ora ci sono tantissimi ragazzi che arrivano dicendo io ho fatto la scuola di questo di quello mi hanno detto che sono un doppiatore ho speso 3500 euro 5000 euro 7000 euro però non hanno la come si dice lo spirito critico di dirsi no non lo so fare onestamente non lo so fare perché perché ci vuole anche una certa autocritica e poi quello che manca tantissimo è la formazione di un mestiere che è fondamentale che è quello del dialoghista io non faccio nel mio mestiere di direttore di doppiaggio passo la metà del tempo a corragere i copioni più che a dire agli attori come devono dire le battute perché scrivono veramente cioè non conoscono il linguaggio cinematografico non sanno che cos'è un'appoggiatura recitativa non sanno che cos'è un tempo non sanno certe volte non sanno manco l'italiano perché mi capita da roba che non avete idea e quindi e più passa il tempo e più questa cosa è frequente e quindi che cosa mi fa è per questo che io dico manca la formazione ok manca una seria formazione allora una volta quando noi imparavamo a fare i doppiatori facevamo stavamo a bottega cioè stavamo in sala uno due tre quattro cinque sei otto mesi ad assistere a rubare le intonazioni da quelli più bravi di noi anche da quelli meno bravi e lì abbiamo imparato a rubare da tutti cioè io imparo questo mestiere ogni giorno ma anche dal ragazzino di cinque anni che arriva o da insomma è un mestiere complesso che non ha più i tempi cioè un mestiere artigianale che non ha più i tempi dell'artigianale e questo è uno dei grossi è uno dei grossi problemi è diventata un'industria per carità va benissimo che sia diventata un'industria il tempo è una delle cose che andrebbe leggermente dilatato non 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 come era un tempo che si facevano cinque anni a turno adesso è un sogno però insomma avere un po' più di tempo per fare cose e la formazione la formazione è fondamentale non c'è più nessuno che sta a scrivere non c'è più nessuno lo posso difficile ok quindi tempo e formazione diciamo le due cose più sì ok grazie mille vedo un commento della radio di mezzanotte meravigliosa Barbara bravi ragazzi la migliore ospite potevate chiamare a parte la sua passione per i maneschi ma come? non vi dico chi gli piace a lui perché voi non sapete neanche chi sia quindi adesso siamo curiosi se ce lo puoi svelare l'orecchio è teso si chiamava o si chiama ancora non so se è ancora vivo Fausto Papetti ed era un sassofonista che faceva le cover in versione la stiamo perde dei successi dell'epoca non lo conosco la cover in versione lasciamo perdere cover in versione lasciamo perdere comunque no noi a parte gli scherzi la migliore ospite che potevamo chiamare la stimiamo tantissimo a livello professionale infatti noi chiamiamo e invitiamo chi stimiamo a livello professionale per poi conoscerlo a livello personale ed è stato veramente molto bello penso di parlare a nome del team e poterti avere con noi questa sera Barbara quindi veramente grazie mille per la tua disponibilità grazie a voi sono stata molto bene con voi anche se mi avete fatto per dimanischi ti mandiamo tutti i link cerchiamo di farci clic e play ma c'è il replay adesso devi rivedere con i nostri link esatto quindi veramente ci fa piacere insomma che sia stata bene che hai passato una serata piacevole ecco noi ci salutiamo però ovviamente siamo in live tutte le settimane però con i Talks vi ricordo che questa settimana abbiamo il comico e cabartista Dado giovedì cioè lo conoscete sì sintomatico fa morire le risate e quindi lo avremo con noi giovedì venerdì ci sarà uno speciale real a Ghostbusters Tale dove avremo Edoardo Stopacciaro Alessandro Budroni ma anche tutto il cast che ha partecipato a questo bel film omaggio anche il cast è tecnico ai Ghostbusters esatto e quindi settimana piena e abbiamo veramente tante cose in serbo quindi vabbè quella l'avevamo annunciata Roberto Scevaliere l'avevamo annunciata quindi però 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 no non voglio fare non voglio fare spoiler buonanotte a tutti ciao Barbara buonanotte ti vogliamo bene scrive Zodac assolutamente anch'io aspettate voglio partecipare a questa chat come si fa? vuole mettere un fuoricino devi purtroppo penso che per scrivere in chat dovresti essere iscritta a Twitch quindi non è possibile scrivere in chat se non sei iscritta a Twitch però però se vieni qui dove siamo noi le nostre telecamerine posso fare questo puoi fare questo guarda esatto guarda posso fare questo vediamo vediamo grazie al team a Barbara la splendida serata grande grazie a voi veramente a tutti i mod lo metti qua bo non lo so non funziona va bene dai fate come se fate come se avesse scritto in chat e vi avesse mandato un cuore gigante a tutti voi che avete seguito fino alla fine lo faccio anch'io ecco esatto anche loro lo sai che era molto più bella di te quell'emoticon Lovern veramente devo essere cattivo perché voi dite che sono cattivo oggi sono stato buonissimo anzi sono stato un pezzo un dolce di quelli stucchevoli alla nutella quindi dovevo recuperare il finale ecco amante dei dolci stucchevoli beh alla nutella non necessariamente non mi pare all'inizio e alla fine sono stato un bocconcino dai buonanotte a tutti grazie ciao a domani fate i bravi ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti